ciao ragazze ciao ragazzi nuovo video di trucco oggi e ragazzi oggi vi devo assolutamente parlare di questo mascara che non sto scherzando è uno dei mascara migliori se non il mascara migliore che io abbia mai provato in tutta la mia vita dopo averlo provato ne ho ordinati altri tre vi dico solo questo e poi lo vedremo in azione ma abbiamo anche tantissimi altri prodotti da provare assieme mentre chiacchieriamo io mi bevo il mio solito starbucks iniziamo con il the porefessional primer di benefit la versione pearl che è quella un po più luminosa che io adoro che opacizza la pelle però le lascia comunque luminosa poi vado ad applicare l'under eye brightener di pixie questo è un illuminante per la zona del contorno occhi e quando dormo un pochino meno siccome ha un sottotono molto rosato camuffa molto bene le occhiaie scure e quindi diciamo che è un boost in più un aiuto in più al correttore da applicare sotto come base adesso passiamo al fondotinta come al solito quello che uso è sempre lui ragazzi sempre quello di diego della palma il nudissimo io adoro questo fondotinta colorazione 242 n inizio subito col dirvi ragazzi che mi state chiedendo in tantissimi come sta gatto denver e voglio tranquillizzarvi perché sta benissimo si è ripreso molto molto bene dalla dall'operazione dall'anestesia sta bene ha mangiato come al solito continua a chiacchierare tantissimo quindi sta bene e volevo davvero ringraziarvi tanto per tutto il sostegno che mi avete dato perché non mi sono sentita per niente sola in tutto questo mi avete mi siete stati vicini mi avete riempito veramente di messaggi di speranza e in tanti avete mandato energia positiva a denver e io adoro come l'amore incondizionato per denver abbia potuto unire tantissime persone in tutta l'italia è una cosa bellissima cioè io l'ho vissuta veramente con con tanto con tanto affetto perché ho visto che ci siete per me ci siete per gatto denver anche per gatto stellino insomma spero però mi ha fatto non solo piacere mi ha proprio riscaldato il cuore vedere che ci tenete tanto ma anche che mi avete aiutato proprio a non preoccuparmi troppo raccontandomi magari le storie dei vostri pelosetti quindi grazie 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 ieri vi devo dire la verità mi sono un po preoccupata stavo quasi per chiamare il veterinario ma poi mi sono tranquillizzata perché ho visto che comunque mangiava perché non l'ho visto dormire gatto denver e quindi mi non vi ho preoccupato perché dico cavolo ma com'è cioè non può non dormire però poi leggendo su internet ho visto che capita a molti gatti dopo l'anestesia generale non lo so forse era talmente contento di non avere più quei dolori sulle gengive sui denti che era iperattivo e non la smetteva di fare le fusa di seguirmi di darmi i bacetti mi ha praticamente mi ha scartavetrato tutta la faccia leccandomi però ha mangiato e quindi ero abbastanza tranquilla però non l'ho visto dormire quindi ero lì lì per chiamare la veterinario mi sono detto no nicole calma ti ha mangiato sta bene e poi si è messo a dormire quindi mi sono tranquillizzata ma si è messo a dormire quando gli ho dato il l'antidolorifico che è anche antinfiammatorio quindi si vede che aveva un pochino ancora di di dolore poi però si è messo a dormire quindi ieri ero un po preoccupata ma no 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 è andato tutto bene sta bene gioca corre lo sto lasciando anche in via straordinaria sul lettone perché si merita qualche coccola in più quindi è molto molto contento io non vedo l'ora che guarisca che gli comunque tra dieci giorni ha un ha il controllo dal dottore però non vedo l'ora che guarisca non vedo l'ora che appunto gli cadano i punti perché si riassorbono e non vedo l'ora che inizi la sua vita senza questo dolore costante sui denti sulle gengive che appunto io non sapevo che avesse questa è la cosa importante insomma che lui stia bene che non abbia dolori quindi grazie 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 ancora davvero dal profondo del mio cuore per tutto il sostegno che mi avete dato perché non mi fate mai sentire sola e questa è cioè non potrei chiedere di più veramente da parte vostra non potrei siete il massimo il massimo nel frattempo sto applicando la cipria che non vi ho detto è quella di mulac e la seal the deal white che mi è piaciuta moltissimo quindi la sto usando nel mio quotidiano quando mi trucco dopo che l'abbiamo provata assieme sono rimasta veramente stupita dalla qualità dei prodotti mulac mulac non so perché ragazzi io allora io ho sempre visto questo brand ok scritto ovunque e non so perché l'ho sempre pronunciato mulac e io adesso mi avete detto nicole si pronuncia mulac perché lo pronunci mulac sei tipo l'unica io a ok quindi mi devo ci devo reimpostare il mio cervello dall'inizio praticamente per dirgli che non si pronuncia mulac io lo pronuncio così da anni da sola rendiamoci conto comunque allora ragazzi poi per la terra useremo questa di mac che è la beijing beauty bronzing powder ultimamente per la terra sto usando questo pennello di to face è il mister perfect mi piace perché le setole molto abbastanza rigide quindi riesce ad andare molto preciso e poi sfumo anche per sfumare è ottimo comunque ragazzi volevo chiedervi visto che sto facendo diversi video dedicati in cui provo solo un brand di make up come come ho fatto con più make up come ho fatto con mulac nel altro modo eccetera eccetera quindi vorrei chiedervi quali altri brand volete che testi per voi e quali altri brand volete appunto che io a quali altri brand volete che io dedichi un video fatemi sapere già mi avete detto mi sa su un abla che vi piacerebbe quindi confermatemi fatemi sapere se è un brand appunto che interessa a molti di voi e assolutamente lo farò poi sfumiamo la terra ve lo prometto ragazzi comunque altre novità vi devo raccontare qui c'è stata la conferenza stampa del primo ministro oh mio dio e ci sono novità nel senso che hanno prolungato il questa specie di lockdown che abbiamo che loro chiamano lockdown ma me fa ridere perché in confronto a quello che abbiamo avuto noi non è assolutamente un lockdown però l'hanno prolungato fino al 2 di marzo quindi negozi rimangono tutti chiusi ristoranti rimangono tutti chiusi pranzo cena ok sono aperti solo per takeaway e delivery quindi tutto prolungato fino al 2 marzo l'unica cosa che probabilmente hanno detto toglieranno tra qualche giorno mi sa il 10 di febbraio è il coprifuoco oltre a questo tutto rimane così fino al 2 di marzo e io ho un viaggio che sto rimandando dall'anno scorso che è un viaggio il viaggio dei miei sogni che però continua solo semplicemente ad essere rimandata ma dovrei dovrei andare a marzo incrociando le dita che sia possibile perché altrimenti sarà e qui già vi do un indizio sulla tipologia del viaggio ma già l'avete capito tutti praticamente e altrimenti si passa di nuovo al prossimo autunno quindi spero di non doverlo posticipare di nuovo anche perché anzi no questo non c'entra nulla in realtà quindi questo è un viaggio che io dovrei fare a marzo e poi anzi poi blush uso questo di it cosmetics è il naturally pretty warm pitch non ho mai usato blush di it cosmetics quindi questo è il primo che testeremo mi sembra molto scuro quindi ci vado molto molto leggera in realtà dovrei anche andare in italia a fine mese quindi fine febbraio per lavoro e per delle altre cose che devo sbrigare a trieste perché come sapete io ho un appartamento che affitto il mio appartamento che affitto a trieste e quindi ci sono sempre anche delle cosine burocratiche che devo sistemare tra l'altro c'è un documento che devo andare a ritirare da mesi ormai comunque sì ragazzi non so in realtà se ce la farò a scendere in italia perché dopo le peripezie che hanno avuto andrea e nil per venire in olanda e poi non sono riuscite a venire perché come vi raccontavo nell'altro vlog nel frattempo illuminante vado ad utilizzare highlight di juno il brand di cleo che è bellissimo ha fatto degli illuminanti strepitosi e questo è the moon ed è un po sul rosato vi dicevo dopo le difficoltà che hanno avuto andrea e nil perché hanno fatto il tampone quello classico che sarebbe quello molecolare se non sbaglio no il sierologico mi avete corretto hanno fatto il tampone sierologico no hanno fatto il tampone molecolare ma perché mi sbaglio sempre perché non ne so nulla di queste cose ragazzi io so semplicemente che dovevano fare il tampone quello classico il tampone faringeo che è in asogola quello che ti dà i risultati dopo un paio di giorni e non sono potuti partire perché in aeroporto hanno richiesto anche il tampone rapido che sarebbe quello sierologico se non sbaglio giusto e non avendo entrambi i certificati negativi ma solo uno non sono potuti partire quindi non siccome cambiano talmente in fretta le regolamentazioni eccetera perché quando loro hanno prenotato l'aereo in realtà non c'era scritta questa cosa il tampone rapido anzi c'era scritto il contrario di non farlo quindi è un po' un casino io non vorrei rimanere poi bloccata in italia quindi sto pensando di rimandare in ogni caso la mia trasferta italiana di fine febbraio perché speravo che qui la situazione fosse migliore perché in italia da quanto ho capito è decisamente migliore la situazione ma qui non proprio adesso ragazzi inizio stendendo questa watery mousse di devora che io ho da secoli lo so ma sono fantastiche e questa se riesco ad aprirla e questa è quella blu metallizzata sono degli ombretti in gel fantastici metallizzati li adoro vado ad applicare questo splendido colore solo sulla palpebra mobile aggiornatemi comunque un po sulla situazione della vostra regione in italia ragazzi ma da quanto ho capito mi sembra che tutte le regioni siano adesso zona gialla giusto quindi siete tutti abbastanza liberi però da quanto ho capito anche se si è in zona gialla c'è comunque il coprifuoco e comunque non ci si può spostare tra regioni giusto qui invece è molto diverso per quanto riguarda gli spostamenti perché non ci sono limitazioni sugli spostamenti né entro la città né entro il paese quindi questa cosa è parecchio diversa devo dire adesso sopra al nostro blu elettrico vado ad applicare questo glitter blu di questa palette di pixie by petra non ho mai provato questo glitter non ho mai provato questi glitter e quindi sono troppo curiosa e andremo ad applicare questo che è molto simile al colore in crema lo applico con il polpastrello che secondo me è più semplice wow super precisi anche se un po di fallout con i glitter è inevitabile ma questi sono molto molto belli questi glitter e molto sottili quindi si possono applicare anche sugli occhi perché non tutti i glitter poi togliamo il fallout non tutti i glitter sono adatti alla zona del contorno occhi quando ero piccola applicavo i glitter quelli che tagliavano tantissimo sugli occhi e ragazzi non è una bella esperienza quindi non consiglierei wow adesso sempre di pixie vado a prendere l'altra palette pixie by petra siamo con questo marroncino lo metto all'interno della della piega e quindi si ragazzi abbiamo confermato un altro mese di questo lockdown qui quindi mi dispiace perché non posso ho tante idee per dei video però non posso metterle in pratica perché i negozi e i ristoranti sono chiusi e quindi ci vorrà un po prima che io possa iniziare con le altre tipologie di video che ho in mente quindi nel frattempo vedrete ancora tanti video caserecci ragazzi tanti vlog ma ditemi qual è la vostra tipologia di video preferita un video che mi avete chiesto in tanti che devo rifare sono i come non cucinare con nicole assolutamente lo so vedo le vostre richieste vi leggo sempre leggo tutti i commenti che vi scrivete anche quelli che mi scrivete in direct per esempio su instagram posso fare rispondere a tutti però leggo sempre anche se non clicco proprio accetta 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 però li vedo quindi iscrivetevi io vi vedo sempre e spero però appunto che non vi dispiaccia che avrò ancora cioè che farò ancora tanti tanti video più caserecci questo mese perché appunto qui la situation non è proprio delle migliori anche se in realtà i numeri stanno comunque scendendo ma dicono che per poter riaprire più in sicurezza appunto è meglio prolungare ancora per un mesetto adesso sempre nella piega ma non salgo così tanto vado ad applicare questo marroncino che è un pochino più scuro comunque ragazzi devo anche aggiornarvi io lo so io mi rendo conto che sembra che capitino tutte a me però quando io vi racconto queste cose per normali vi posso assicurare al mille per mille che mi succedono davvero io continuo però a non avere assolutamente nessuna sensazione brutta negativa io non ho paura cioè un po mi prende la strizza tipo un pochino a volte però non ho paura non mi sento male nella mia nuova casetta semmai ci sarà qualcosa non sarà niente di brutto di preoccupante ecco però mi è capitata un'altra cosa infatti vi avevo menzionato anche su instagram io lo so lo so che è incredibile però vi giuro non so se raccontarvelo eccetera perché ve l'ho chiesto anche su instagram questo e tipo il 70 per cento 70 qualcosa per cento di voi mi ha detto sì nicole sì raccontaci quindi comunque 70 per cento e passa e tanto quindi la maggior parte di voi vuole sentire che cosa succede per quanto riguarda il paranormale ma visto che ve l'ho chiesto su instagram vorrei appunto chiedervelo anche qui su youtube perché magari il pubblico non è sempre lo stesso qui e su instagram quindi fatemi sapere una cosa ragazzi quando e se mi succedono queste cose però normali adesso è lo stesso colore lo stendo anche sulle ciglia inferiori se mi succedono queste cose quando succede qualcosa volete che ve ne parli cioè volete che lo menzioni nei video oppure no perché in molti sembrate essere molto affascinati da queste cose come me io sono da sempre cioè da quando sono piccola sono affascinata dal paranormale dai misteri e queste cose qui e non ho preso da nessuno perché i miei genitori non sono così sono proprio io però non so se anche per voi è esattamente così perché alcuni mi dicono io mi spavento quando parli di queste cose nicole quindi non voglio farvi spaventare però al contempo sono talmente appassionata di queste cose che io ho onestamente pensato tante volte di iniziare a far video sul paranormale però sarebbe forse un pochino troppo fuori da quello che è il mio il mood di questo canale che è make up beauty insomma cose molto girly no anche se c'è anche molto della mia vita nel mio canale però vorrei capire se quando succede qualcosa magari in un vlog se volete che ve lo menzioni oppure no quindi fatemi sapere fatemi sapere se siete anche voi appassionati di paranormale come me se appunto fatemi sapere perché voglio sempre seguire i vostri consigli voglio sempre seguire anche capire quello che vi piace per potervi portare dei contenuti che vi piacciono quindi ho assolutamente bisogno in questo caso ma sempre del vostro feedback adesso con un pennello pulito sfumiamo il tutto un'altra cosa che mi succede che è molto bizzarra e questo non penso che spaventi nessuno però è questo ve lo posso dire la cosa invece che è successa che è molto più strana ditemi magari ve la racconterò in un vlog e una cosa che mi succede moltissimo è che le batterie ragazzi non mi durano niente la batteria della nuova videocamera per esempio della nuova sony mi dura tipo un'ora e quindi cosa ho fatto ho comprato delle altre batterie online in modo da avere ricambi perché non mi bastava e entrambe le batterie che io ho acquistato sono esattamente uguali cioè devo cambiarne due o tre per ogni video che filmo cioè tipo per un'ora e mezza di filmato devo cambiare due o tre batterie non lo so anche questo spesso è associato a fenomeni paranormali quindi non lo so non lo so ragazzi forse semplicemente la mia sony che è la z v1 che ha questo problema di batteria o forse sono un po tutte queste videocamere che hanno questo problema se ce l'avete fatemi sapere perché molto strano con la canon non mi succedeva adesso eyeliner vado ad utilizzare il basic beach di banana beauty che adoro è super super facile e preciso vado abbastanza sottile perché non voglio coprire i miei bellissimi glitter adesso matita vado ad utilizzare quella di victoria beckham che secondo me è la migliore matita occhi di sempre il resto dei prodotti che ho provato del brand perché me lo chiedete spesso sono sicuramente degli ottimi prodotti però non mi hanno entusiasmata quanto questa matita questa matita è e so che le matite non sono un prodotto di cui si parla spesso tipo le palette oppure i mascara oppure i rossetti perché le matite si pensa una vale l'altra però no ragazzi questa è fenomenale la scrivenza di questa matita cioè basta veramente appoggiarla e scrive in un modo è incredibile questa matita quindi adesso finalmente arriviamo al mascara piego semplicemente prima le ciglia questo è il mio piegaciglia di mac e adesso arriviamo finalmente al mascara questo è il maybelline sky high ragazzi io ho sentito parlare di questo mascara da chloe morello che è un influencer che tra l'altro ho anche conosciuto quando sono state alle maldive per benefit e lei l'ha preso perché l'ha visto su tiktok e ragazzi io vi posso assicurare che questo mascara adesso adesso vedrete adesso vedrete perché io non ho ciglia lunghissime chilometriche ma con questo sembra che lo siano ed è favoloso ho sentito che questo mascara è molto difficile da trovare in italia non ho capito se deve ancora uscire perché l'hanno fatto uscire in altri paesi ma in italia deve ancora arrivare oppure non ho capito se è proprio un prodotto che nei negozi in italia non verrà venduto però so che potete trovarlo su internet io l'ho ordinato su un sito che si chiama coolshop.nl però ho controllato ma non spediscono in italia so però che ci sono altri siti italiani che appunto riforniranno presto se qualcuno lo sa nei commenti scrivetelo questo è il risultato mascara maybelline sky high zero mascara la differenza è secondo me abissale e notare anche quanto è nero questo colore quindi da anche tantissimo da tantissima intensità allo sguardo adesso lo applico anche su quest'occhio così vedete il risultato completo devo lavorarlo un bel po' quindi fare diverse passate ma come mi allunga le ciglia questo mascara secondo me veramente nessun altro assolutamente nessun altro e questo è il risultato del mascara ragazzi non so se riuscite a vedere le mie ciglia ma non sono mai 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 state così lunghe per le sopracciglia vado ad applicare il mio Gimme Brow di Benefit la colorazione è la numero 2 che è sempre un pochino più chiara rispetto a quello che uso di solito devo rifare però assolutamente la laminazione alle sopracciglia perché con la laminazione sono secondo me molto più ordinate anche se sono tipo un po' più spettinate non lo so però per me la laminazione è bellissima il risultato lo adoro e adesso passiamo al rossetto vado ad applicare questo di Mellow Cosmetics che adoro da secoli il colore è posh ed è un bellissimo bellissimo nude ma non troppo chiaro è anche molto confortevole sulle labbra perché è opaco ma non le secca è stranissimo per me applicare il rossetto sul labbro superiore da quando non ho più il filler perché è cambiato completamente è molto più piccolino quindi se prima lo applicavo tipo così adesso devo stare molto più bassa però non penso che lo rifarò il filler mi piacciono le mie labbra così come sono e in tantissimi mi avete detto Nicole non rifarlo non rifarlo che sei bene così quindi vi ringrazio e questo ragazzi è il nostro look completo adesso vado semplicemente a spruzzare il mio The Porefessional questo è il nuovissimo Super Setter lo spray fissante di Benefit Cosmetics che mi sta piacendo moltissimo lo sto testando da un paio di settimane ma sembra veramente che tenga benissimo lo so esagero sempre ma io ho questa convinzione che se ne spruzzo un pochino di più il trucco resiste un pochino di più che probabilmente non è così è una cosa solo presente nella mia testa e mia family questo è quanto per il video di oggi spero vi sia piaciuto mi piace tantissimo questo trucco e adesso vado a sfoggiarlo al supermercato quindi questo è quanto mia family per il video di oggi vi mando un bacio enorme grazie 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 ancora per come mi siete vicini vi adoro vi abbraccio anche forte 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 e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17.30 vi voglio bene ciao